Vanni Cuoghi che è uno dei due artisti che espongono qui in occasione di Muscat Tales in Lab Gallery ciao Vanni ciao piacere di conoscerti innanzitutto complimenti perché le tue opere mi incantano grazie mille quindi ho la fortuna di poterne parlare insieme a te e devo dire se penso dopo aver visto qualche lavoro qui in galleria avere spiato un po il tuo sito aver visto le cose che hai fatto se penso a qualche aggettivo per così prima di incontrarti penso a raffinatezza narrazione cura per i dettagli amore per l'arte amore per l'arte a 360 gradi beh è la mia vita quindi non potrei fare altrimenti insomma questo non è un mestiere e io dico sempre che chi fa l'artista è come se abbracciasse dei voti è una disciplina che tu hai applichi e applichi poi alla vita a quello che fai a quello che vedi a quello che senti e la tua vita deve rientrare per forza all'interno dei tuoi lavori se non è così non ha senso parlare di questo lavoro di questo mestiere di questa disciplina insomma è molto difficile dare una definizione quando le contaminazioni sono così numerose sì io ho sbagliato vita molte volte ho sbagliato vita molte volte nel senso ho sbagliato vita ma non ho sbagliato scelte nel senso che alla fin fine penso di dire in maniera anche abbastanza presuntuosa di aver vissuto più vite tutte le volte mi innamoravo di un mestiere che facevo che amavo che sentivo come mio e poi dopo qualche tempo questo innamoramento svaniva non c'era più però in realtà infatti io sono approdato all'arte tucurda con un grandissimo ritardo ma quando a 37 anni cioè ho iniziato a pensare proprio c'è iniziato a vivere e a pensare di fare proprio il pittore a tempo pieno a questa età insomma però il cammino è stato veramente complesso e la cosa bellissima è stato che poi alla fin fine tutte le esperienze avute tutti i lavori fatti sono rientrati all'interno del lavoro che io faccio e non ho buttato via veramente niente per quello però dico cioè ho cambiato molte vite insomma sono possessore fortunatamente di molte vite mi viene da dire che dai tuoi lavori si vede si coglie questa cosa qui siamo davanti a uno forse dei tuoi quelli che ritieni più rappresentativi sai un artista per per un artista tutte le opere sono no sono 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 figli insomma quindi poi alla fin fine la cosa che mi piace e a cui sono affezionato soprattutto a questo lavoro e agli altri due legati alle sibille è data dalla modalità con cui sono state concepite ed è una modalità mascherata nel senso che anche in questo caso tutto sembra molto lineare programmatico chiaro preciso mentre invece in realtà le figure sono state tagliate sono state sovrapposte sono state cambiate di ordine la storia si è andata manifestandosi nel farsi non c'è stato sì c'è stato un afflato c'è stato un inizio questo è ovvio insomma se no altrimenti non partiresti nemmeno ma non è progettuale il mio lavoro il mio lavoro è proprio un qualche cosa che si va facendo ma per un motivo molto semplice perché a me piace molto giocare quindi se non mi sorprendo quando faccio le cose caspita la noia è subito dietro l'angolo se penso alle tue opere mi vengono in mente supereroi americani e ballerine eleganti ballerine classiche si è un po tutto quello che io non sono poi nel senso che ovviamente no adesso a parte gli scherzi però dico sempre che se l'artista racconta di sé non sbaglia mai nulla in certi casi è più vero di una bugia o perdone non la bugia in molti casi è proprio una verità raccontata in modo diverso lo stesso ma sì anche volendo volendo anche insomma nel momento stesso in cui tu racconti una cosa e racconti distorcendola però poi alla fine il succo è sempre quello così nel momento stesso in cui io parlo di danza piuttosto che di supereroi piuttosto che di eroine piuttosto che di boschi parlo sempre di esperienze vissute di cose che mi hanno attraversato di sogni fatti di incontri avuti e tutto questo se confluisce all'interno del proprio lavoro chiaramente l'artista deve essere una specie di imbuto uno scolapasta dentro di lui deve confluire la contemporaneità dentro lui confluisce la contemporaneità del mondo ma anche la propria quindi la propria vita e questo chiaramente poi esce come lavoro come opera è l'unico modo che io conosco la realtà è una miniera straordinaria perché non attingervi insomma forse spiega anche queste ambientazioni che spaziano dal teatro ai boschi agli interni di case borghesi ottocentesche come un po come in un sogno beh io io vengo dalla scenografia quindi il teatro è quello io sono uno scenografo cioè vengo da lì ho lavorato come scenografo al piccolo teatro e in rai quindi per un tempo ho fatto anche quello per quanto riguarda poi cioè i supereroi ho disegnato la disney per qualche mese quindi ci sono tutta una serie di cose che sono rientrano all'interno delle cose i boschi non ti nascondo che sono stato uno scout fino all'età di 16 anni quindi cioè tutte queste cose alla fine sono materiale sono materiale di ordine proprio narrativo di ordine concettuale e tutta questa cosa alla fine deve per forza rientrare all'interno di chi sei tu di come sei tu certo chiaramente tutto questo subisce delle modifiche tutto questo subisce dei cambiamenti la realtà poi ripeto come ho detto prima molta più immaginazione di noi quindi perché non attingervi a piene mani insomma che dire invece di marcel zama e che oggi è qui presente pur non essendoci insieme alle tue offre beh devo dire che in realtà io sono molto molto lusingato dall'idea che ha avuto alessandro anzi quando alessandro luppi mi ha proposto questa mostra devo dire che mi sono proprio venuti i brividi e è un artista che io ho sempre stimato molto insomma e paradossalmente non ci siamo mai incontrati fisicamente però alessandro ha ravvisato delle affinità e mi ha buttato lì questa idea e questa cosa devo dirti mi ha come dicevo prima cioè veramente mi ha lusingato davvero moltissimo di lui una cosa che mi piace io dico sempre che lui racconta la parte centrale della storia cioè non c'è l'inizio e non c'è la fine cioè sono storie senza il cosiddetto capo e coda però l'episodio centrale è quello da cui tu puoi puoi derivare tanto la fine quanto l'inizio per quanto mi riguarda invece io tendo a mettere gli ingredienti della storia e tutti e due confluiamo in un unico meccanismo che è quello dato dal fatto che è l'osservatore che poi conclude e aggiunge il significato a quello che noi abbiamo iniziato a raccontare grazie grazie a te